Top Sport News E attivate le notifiche, per non perdere le ultime notizie sportive. La Champions League si prepara a un cambiamento epocale, a partire dalla prossima stagione, ma sembra che ciò sia solo l'inizio di una rivoluzione ancora più grande. Secondo quanto riportato da El Pais, UEFA ed ECA, i due maggiori enti calcistici europei starebbero progettando una riforma che potrebbe sorprendere molti. Si tratta di tre divisioni da 18 squadre ciascuna, Super League, Europa League e Aspirant League. Ora, la cosa incredibile è che questa Super League, tanto discusse in passato e respinta, potrebbe vedere finalmente la luce. Un vero colpo di scena, considerando l'estrema opposizione che aveva riscontrato sotto la guida di Ceferin, sconfinata in minacce di sanzioni, o mancate partecipazioni alle competizioni della UEFA per le squadre coinvolte, in primi Juventus, Barcellona e Real Madrid. Ma le sorprese non finiscono qui. Il numero di promozioni e retrocessioni tra le divisioni è davvero intrigante. Solo due squadre potrebbero salire o scendere tra la Super League e l'Europa League, mentre ben quattro potrebbero farlo tra l'Europa League e l'Aspirant League. Questo potrebbe portare a un'incertezza e a una competizione, mai viste prima nel mondo del calcio europeo. Tuttavia, c'è un aspetto controverso da considerare. La stessa UEFA che ha respinto con forza la Super League, sembra ora intenzionata a crearne una propria. Questo solleva molte domande importanti sull'uso del potere da parte dell'organizzazione calcistica europea, e se stia cercando di mantenere il suo totale controllo sul calcio continentale. Ognuno naturalmente trarrà le proprie conclusioni su questa situazione, ma una cosa è certa. Il calcio europeo sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti. Noi però vogliamo conoscere il vostro pensiero, pertanto vi chiediamo di esprimerlo nei commenti qui sotto. Confrontarsi su argomenti come questi è di fondamentale importanza. Continuate a seguirci su Top Sport News per tutte le ulteriori sviluppi su questa incredibile storia e altre notizie sportive. E, naturalmente, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. Grazie per essere stati con noi e alla prossima con altre notizie sportive emozionanti. Grazie per essere stati con noi e alla prossima.